qui con Michele, allora Michele, ora inizia il pizzicando, che cosa è questo pizzicando? è una tradizione antica di Castellino, che si fa una piramide umana con le mazze e si ringrazia tutto il popolo che domani, dopo domani, tutti i genitori antichi di prima, partivano per la Puglia, andavano a mettere il grano, questo è un saluto che davano alle famiglie ah ecco, quindi questo era il saluto ai cari, i propri cari, che andavano a fare i stagionali a raccogliere i grani capitanati dal 12, fino alla fine del mese stavano giù verso San Rivero, la zona di capitanato si, giù verso il mare, la chiamavano la Puglia ah e quindi questo era il saluto dei contadini? il saluto della famiglia per i familiari, gli andavano a buscare il pane per la famiglia e in che cosa contisse questo? c'è un ballo, una musica che c'è? allora, il pizze che andò, io ero un giovane più bravo, più bello, stavo sopra, che aveva la ragazza, si facevano queste cose prima la ragazza guardava quello è molto bravo, si facevano i loro amuri ah quindi è una specie di corteggiamento? esattamente perché era quindi il maschio dominante, quello più forte, più bello e più bravo era quello con tre o quattro gruppi, non ero uno per ogni ma c'è una musica, c'è qualcosa si, si, dopo si andava alla casa del comitato si doveva entrare sulle spalle se no, non c'era il boccione di vino di 16 litri per andare da bere ah quindi il vino ci stava se no entravi così se no entravi a cavallù, cioè in dopo le spalle e dovevi passare sotto la porta in dopo le spalle, inginocchiato, quello parò sopra e poi come uscivano? eh uscivano a pieno intero si ecco il sindaco ecco il sindaco buongio buongio Grazie a tutti. 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 a tutti.